Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo una salsa verde medievale per accompagnare le pezzi spettate. Prepariamo due pezzi e per la salsa, parsley, rosemary, l'autore medievale suggerisce una razza di 4 a 1 di erbe, 4 parti parsley a 1 parte rosemary. Poi il ginger, le pezzi, usiamo solo 3 pezzi, vinaiglia di vino bianco, pane tostato e salto di acqua. Iniziamo con la salsa. Prendiamo in morta 3 pezzi, poi aggiungiamo il ginger, pulito e minuto, e due pezzi di salto di acqua di acqua. L'autore suggerisce cambiare la quantità di pezzi con la settimana, più pezzi in winter e meno in summer, in accordo con il medievale medievale. L'autore era anche un fisico e le sue sue salle siano a un balancio tra la salute e il sapore. Rekomenta questa salsa per i pezzi, ma anche per le vele e il matone. L'azienda originale latino di questa ricetta è salsa viridis, che significa salsa verde o salsa verde in italiano. Questa ricetta è parte di un panfletto corto scritto in latino nel XIV secolo, titolo Opusculum des Saporis, che significa un libro sulle salle salle, attribuito all'italiano fisico, Maino de Maineri. È un'interessante collezione di ricette di sauce, che seguono nella tradizione dei ricettari medievali. Poi aggiungiamo il rosemary mince e il parsley. Ora riprendiamo tutto. Non stiamo guardando una consistenza semplice, alcuni pezzi di zingero o rosemary donano una buona textura alla sauce. voi solito potete anche finire semplicemente ridurre tutti gli ingredienti, ma riprendendendolo nel mort же aiutano a rilasciare i bambini. Poi aggiungiamo il bambino cattato in winnegare dolce uffio. Le aggiungiamo alla sauce e riprendiamo. Dal medioevo il bambino cattato in vino o vino è often usato in le sucese come profondità. Testa la salsa e aggiungere salto o vinagre al vostro gusto. Ora cuoceremo le pelle. Ristiamo le pelle sull'acqua, tornando i pezzi spesso. Il tempo che bisogna cuocerli dipende dalla dimensione delle pelle e dalla temperatura del pelle. Aggiungeremo di non aver cuocerele. Ora plattiamo le pelle e la salsa. La pelle deve separare facilmente le pelle. Il buon balancio di spezie, erbe e vinagre fa questa salsa un paese perfetto con le pelle e un modo delizioso per rivolgere la cultura culturale medievale.